Bentornati qui South Park di nuovo questa è la parte 2 di ieri in realtà sarebbe la parte 3 di tutto il gameplay ma... ci sono ancora io pensate ci pensate un po' non è scaduto il contratto non ancora e tanto io stavo andando avanti a giocare mentre d'arte lo sfamino di nulla e c'è Timmy qua benissimo possiamo usare Timmy per andarcene possiamo continuare a esplorare qui e però prendilo il punto se no non te lo ho preso? dove c'è la bandierina no c'era già prima sali, sali ecco, sali si sto cercando di prendere questo e poi questo è bellissimo ho scoperto come si aprono le cantine segrete della gente cos'è? non so se hai visto qua quello non lo so aspetta l'ho visto da qualche parte puoi cambiare personaggio? controllo nel senso controllare butters sicuro? perché l'ho visto fare ah si? ma non ancora non me l'ha ancora detto niente nessuno non me l'ha ancora detto niente nessuno controllo? c'è controllo? ho preso controllo tab? non me l'hanno ancora fatto fare spara la, spara la, spara la non ci arrivo devi entrare devi entrare in quella casa qui prende fuoco tutto qui prende fuoco tutto no 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 ah si eh devi fargli prendere fuoco tutto no eh beccato pensavo anch'io che dovessi scoraggiare mi sa che dobbiamo prendere una magia si fanno con le scureggie eccolo ma è bellissimo questo gioco ha 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 posso avere qualche trauma dov'è la chiesa? andiamo direttamente in chiesa che è lontanissima da dove dobbiamo andare ma non importa no la quest principale è secondaria questo è sky, è skyrim perchè non ci posso andare di là? ah di qua eh si eh eh i bravi mammini passano sull'aschipiere lì c'è un coso c'è c'è un pokémon eh mi sa che ci arrivi no con la freccia non ci arriverai mai no oh oh picchia la tipa picchia la tipa parlaci parlaci no non ci puoi parlare eh 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 che si impari scorreggia addosso scorreggia e fai capire chi è il più forte con le palle del metto forse dovresti andare da un dottore ma ci arrivo lì dai dico là da dietro la macchina lìし vuoi dire che posso andare di qua? qualche miseria no quello mi sa che ci arrivi...eh no ma devi venire qua a spaccare e poi salire gg tintura vera ma a sinistra c'è qualcosa? c'è la scuola no andiamo a... vai su vai su nella chiesa nemmeno male ... andiamo a farlo e vangendo noi siamo studiantes o la macchina non entri Non c'è neanche tanta pubblicità occulta, vero? Bell non è uguale a un'altra marca famosa Spara con la telecamera, bravo, 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 non devi mai farti vedere, sbirraggio, pesce, il pesce, che fai non sali, certo che sali, la chiave, la chiave, non farti vedere Checco, non devi farti vedere, bravo Checco, bravo, bravo Checco, tossico, no devi prendere le chiave devi sparare per tirare giù, aspetta, bravo Checco, vedo che hai imparato eh, visto, formaggio il formaggio, la vecchia, oh ora puoi prendere le chiavi immagino, dai stai ballando, no vai 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 a prendere le chiavi, no, mi sa che non ci interagisci con le chiavi, forse è pieno di sopra, prova ora, per me non la trovi qua ora, ancora, delle palle, delle palle, no mi sa che è, aspetta, continua, c'è qualcosa da fare, quando si ferma, quando si ferma, si, qua ora, ora, ora che tira fuori il cellulare, prova, prova, forse quando, aspetta, provo l'ultima volta, ora che ritorna qua, e fa cosa, che ha droppato la carta, visto per parlare che c'è il simbolo, sì sì sì, ora qua, e quando, no niente, no, non sarà qua, che ti ha inviato un nuovo messaggio, princess, dove sono i messaggi, dei nuovi amici, mi, oh Gesù, poi c'è Cartman che fa schiantare, sì sì sì, fa troppo schiantare, oh puoi usare il distributore, pesissimo, ne ho sei, vabbè, dai, sono abbastanza messo bene, no, infatti ce l'hai, uguale, la madre di Cartman è ricercata, perché, ma dov'è, no, non è la madre di Cartman, no, non è la madre di Cartman, no, è il pazzo, sì sì sì, mi sembrava lei, dalla, per i pubici, affascinare, scusa, tira un attimo, una frecciola sopra, come ci sali, devi saltare, puoi saltare, bravo, Checco, aspetta, eh, vedi che scintilla, eccolo lì, gg, 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 checco, oh, oh Gesù, uno, noi ci sono, noi ci ha bisogno, noi ci siamo, noi ci siamo, noi ci siamo, noi ci sono tutti gli armadie, che ti frega, ma ci siamo anteschio, cos'è, quella è la lattina della Red Bull, chiave cella, grande chiave della cella vedi l'uscita d'emergenza? nooo l'uscita d'emergenza la granina con le tette e vedi c'è un altro non so che cosa devo farci con quelle ma forse non una per ora per ora niente no, spazio? vabbè ma non puoi uscire vabbè vedi che co che si deve attaccare ma fateli fuori no scappa faccio prima tizio dentro tizio dentro fai camere che rispondono va bene eh l'aggiusteranno quando c'è andato fuori ti fa vedere che co no non ti fa vedere che co no no quando guarda cellulare vai vai tiralo via ok vabbè 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 chiudi la cella chiudi la cella vuoi farlo? no maledizione sarebbe stato bello vabbè non abbiamo fatto un nuovo amico il nostro scopo era quello si infatti andiamo a affrontare quei elfi bastardi le nostre palle lanciali della cacca che ecco lanciali non ci sono più ahahah 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 sono scappati sono scappati ma hai detto io di farseli subito è uguale eh ce n'è di più qua aspetta parla con la tipa l'armatura quello dietro tardi botta e risposta vabbè perdiamo batters allora allora botta e risposta perchè faceva botta e risposta colpi in corpo a corpo e quando tipo attacchi fai contro attacco mi sembra che facciamo fare non abbiamo mai provato l'altro attacco i primi risposta finchè ahidi ahidi eh mi raccomando darti aspetta no no ferma io se compravamo delle pozioni per quelli non aspettare per me ci che schifo che vuoi farlo te io vabbè non ce lo provo oh magari accelerare probabilmente prima lo facevi sempre la stessa velocità no per me ha premuto due volte lo stesso tasto prima sì sì non devi sbagliare curati curati batters insomma non può andare di corpo a corpo martello l'altro 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 no colpisce solo quello davanti ah è vero perchè colpisce linea questo invece eh no eh il problema è che eh ma c'ha l'armatura ah no che ce la faccio ce la fai? sì è vero è vero no questa è un altro tipo di armatura occhio ah no troppo tardi eh? cazzo stu qua anche se pari fa 20 ma sono forti questi hanno più vita di me ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ocuri tu? Si L'azione della salute è grande Se ci lascia Walter se le penne è un casino Ma l'abbiamo mai usato Mai usato, vai Prima rispettatamente e rapidamente Personaggio sinistro del mouse per scatenare la tua cura di vita Pugnate sinistro del mouse Spammala, spammala Però aspetta perché probabilmente No, devi aspettarmi O no No, a uno è rimasto E' tipo Kenny il guerriero Esatto Fai martello il fulmine Sono cascati i miei metri centesimi Non ho abbastanza pipì Non so se curarlo lui quasi quasi Lo massacra, non è basta Anzi lo faccio entrambe faccio Non puoi? Si Sai che puoi attaccare e curarti nello stesso momento? Eh no No, non puoi di causare il coso comunque Va bene, non importa Non importa Non ha appagato il bersaglio Si Hai fallito il contrattacco però No, no, l'ho fatto L'hai fatto? Si, ho fatto uno perché c'è l'armatura Ah già, c'è l'armatura C'è l'armatura No, vai vai Per forza attacco il corpo a corpo con la tasto destro Si Tardi? Mamma mia Buono Perfetto Mamma mia Eh bello interattivo comunque anche se Si si Non è così facile come posso sembrare Eh infatti Io pensavo fosse il classico gioco a turni Questo l'ho fatto tardi Però hai fatto... Ok Vai Finisci Spione il cotennone Beh, lo ci piace Ci piace Ci piace Il massaggino post vittoria Abbiamo vinto Fala quella tipa Tipa Oh Ci fa Ci fa Ci fa Ci fa Eh no, non ci fa parlare Comunque la dici con la bionda Ci fa E qua dobbiamo trovare il coso? Non ci fa parlare Si qua dobbiamo trovare Il vulcaneggiando L'ipad Esatto Ho sbloccato Timmy 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 Perchè? Perchè? Perchè è giusto che sia così E non mi fidare di stare in una chiesa di soffate eh? No Soprattutto al buio Dun 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 San Piero È un coniglio È un coniglio Oddio Oddio Winsaglio da bambino Mmmmm Oh Gesù Mmmmm Non vedo altro Potevi sparare forse A No Gesù? No magari Al vaso lì? Al vaso? Niente Bello No esce Probabilmente è fuori Cioè hai visto che c'era la stradina fuori dalla chiesa È chiusa l'altra stanza Oh Spengono le luci Io ci si può andare nel confessionale Anche perchè io ci avrei paura Dopo aver visto il guinzaglio da bambino Beh Ma Poi metti E se non è qui dov'è? Eh a sinistra Ma tu ti scegli qua? Può essere Basta fa l'istru Vai su Scusa hai aperto il passaggio Niente Ma questa che diceva? Nei pressi della chiesa dice Nei pressi? Mi ricordo Attorno Fare attorno alla chiesa Per lustra Oh se no torniamo indietro Eh aspetta Esploriamo qua comunque Per lustro Disse che qua e trovo Oh aspetta Oh Hai visto uscito quella a fare la? Di sotto? No lì Guardi È uscito prima Non c'è Ehm sono delle espansioni Vediamo ancora cosa Come ragionarci Quando possiamo andarci Torno indietro Torno indietro Eh Topi Topi OP Veramente C'è una strada verso il basso Ma Mi sa che siamo Eh sì Siamo alla scuola Eh sì sì Torno su Niente È intorno a una chiesa proprio Allora sta va nel giardino Provate sparare nella No Guarda guardiamo bene nel giardino Magari ci sta sfuggendo Dov'è? È in fondo Sopra Dov'è? Fai il giro così intorno all'albero Grande Mamma mia ragazzi C'è Eh Non lo so ragazzi Sì Mi dovete fare il contratto a vita a me Sennò Quei cazzo fate? Sì Timbi 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 Ok E in quale casa era? Io devo C'è da vedere che c'era in quella casa Dove c'è la tipa nuda Cioè sono troppo curioso Mi devo grattare Beh è venuta la peste oltre Tipo la La ebra Beh direi che non c'è problema E vabbè ragazzi Tanto sto accanto a voi mica No infatti A me piace la peste L'ho giocato tre volte Timbi Beccatelo Ottimo lavoro caletto Sappia che io sono e sempre sarò Oh Lui è amico su Facebook e ha tanta roba Sì Oh OP Cos'è? No no quella sotto Noo livello 4 Che livello siamo? E come si sa il livello con i combattimenti? Sì Il classico metodo Sì 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 Ok Guarda un po' se riesci a aprire l'altra porta che non poteva aprire Ma non penso ti abbia dato l'oggetto Noi abbiamo ancora la chiave di che cosa? Quella chiave strana? È quella misteriosa È quella misteriosa Del... No del... Si chiama Allora prenditi e avvicinati alle case perchè sennò qua non ne usciamo più Questo È una è la E l'altra è ancora più in là Ancora più a destra Sì Jamie 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 Più vicino che c'è a questo Più in là non c'è nulla No È sotto Sì No adesso è dietro là del giardino È scomodo? Ah è nella base sì Giusto Intanto dobbiamo prendere Belli got Ragazzi L'elementare che fumo è il top ragazzi Allora facciamo già la terza parte? No andiamo avanti 20 minuti Terza parte Taglio Terza parte Timmy Ah ah ah